2 centimetri da quello che hai piazzato prima no no no, a destra due centimetri a destra ci siamo 160 a minchester, era questa adesso mi ero leggermente in basso e vediamo se non c'entro quasi c'entro praticamente se non c'entro se non c'entro se non c'entro se ne vede